Sì, perché il figlio deve attaccare bene, altrimenti non va. Va bene, va bene, va bene. Se non si secca. Dai, veloce, tagli le mani. La colla, la colla. Perché adesso... Costa un sacco di soldi. Cariello, aiuto. Devi tenerlo poi, perché non possiamo stare qua due ore a tenerlo. Tenta non toccare qui. Vai, tienilo così. Tienilo bene, no, tienilo bene, sì, perfetto. Vai, vai, aspetta, aspetta, se no poi non tocca. Gli do il cuozo, gli do il cuozo. Togli, togli, se no poi non tocca il filo. Devi tenerlo dritto, però, eh. Lì così, benissimo. Devi tenerlo dritto per bene. Adesso te lo dico, guarda, te lo fisso dritto e tu lo tieni così com'è. Ah, ok, ci metti anche il pozzettino di nastro. Sì. Dai, veloce, però. Ma se ci chiede direttamente la lama, le vogliono... Sì, vabbè, quello puoi sempre fare, ma intanto lo usi. Ma comunque, una volta che hai fatto, resta perfetto. Tienilo così che è all'inclinazione giusta. Sì. Due minuti dovrebbe essere sufficiente. Tengo il tempo, se vuoi. Bene, poi te lo diciamo, però, due minuti. Quando senti che incomincio ad indurirsi qui, che lo senti anche dalle ditte... Ha! Ma anche qui va si io tui! Ma che l'està chiede direttando... ... E? Grazie